In realtà sono la stessa persona perché comunque ho gli stessi pensieri e mi sento comunque lo stesso, cambia soltanto un po' di consapevolezza, forse so meglio cosa riesco a fare, mentre prima era un po' un cerco di, semplicemente. Ti dico, a me comunque la casetta un po' manca perché è ok che sei sempre, tra virgolette, tanto tempo sotto pressione, ma non, cioè diciamo è il tutto assieme che ti ci fa sentire, non è tanto che qualcuno ti mette ogni dieci minuti, però ti senti al sicuro comunque, non hai mai la, non hai nessun tipo di timore dell'esterno, cioè più che altro io, perché ti senti sempre in qualche modo aiutato, non cammini da solo, quindi diciamo è un po' quello, però a camminare da soli diciamo ci sono sempre stato abituato, quindi non è una... Penso di aver centrato quello che volevo, ma perché semplicemente mi sono sempre comportato essendo me stesso in tutte le situazioni, quindi essere arrivato fino alla fine, fino a, diciamo fino ad ora, io sono contento di qualsiasi cosa, non cambierei nulla, ma perché sono sempre stato io, non mi sono mai, non ho mai cambiato per le cose attorno, diciamo, anche se in tanti contesti potevo tranquillamente farlo, però non riesco, non riesco ad andare contro la mia persona. Però non la chiamerei tanto in sicurezza, perché a volte viene distinta un po' l'essere timidi con chi è riservato, perché magari una persona non si sente di dire determinate cose, allora passi per timido, tra virgolette. Io ero timido più o meno a 16 anni forse, poi ho iniziato a capire, diciamo, chi sono, e che tante cose posso affrontarle in modi diversi, vivere la vita un po' come è, perché essendo una, diciamo, uno deve vivere tutto. E diciamo questa cosa è un po' meno. Poi ovviamente lì ad amici fai cose che non hai mai fatto. Io non ho mai cantato davanti a tutte queste persone, non mi sono mai sentito in un, diciamo, con la sensazione dell'essere giudicato comunque, dai giudici davanti o in generale. Però sono cose che ti aiutano a capire come sarebbe stato il mondo fuori, diciamo, che sicuramente il mondo non sta alle regole di nessuno, va molto a seconda delle persone, di quello che c'è, semplicemente. L'EP, diciamo, chiude un po' tutta la mia vita prima di amici anche e dentro amici, perché tante canzoni sono state scritte prima di amici stesso. Ed è un po' la mia vita, il mio modo di pensare in generale, e anche comunque che nasce più o meno due anni fa. Quindi sono contento di arrivare, di essere arrivato a questo punto con il mio primo EP, cosa che fino a otto mesi fa non pensavo mai di poter uscire con un EP in così poco tempo, semplicemente. Quindi è una cosa, non lo so, bellissima. È proprio una... Non la chiamerei neanche soddisfazione, perché non ho realizzato ancora, per dire è una soddisfazione. Però è sicuramente la cosa più grande che mi è successa fino adesso, ed è un sogno. Io credo che indipendentemente dal tipo di etichetta, un artista debba comunque fare il suo. Quindi se sei con un'etichetta grande o piccola, una persona si deve focalizzare soprattutto sul suo essere, su fare le sue canzoni, perché non voglio vivere nel mondo dove spero che qualcuno aiuti l'arte, perché secondo me deve essere una cosa tua che senti dentro. La mia decisione è molto, diciamo, indipendentemente appunto da quanto erano grandi le altre che mi hanno proposto, mi sentivo di scegliere appunto quella, perché è così, è più concentrata, diciamo, meno dispersiva, dove posso, diciamo, decidere cose io, come ho fatto, diciamo, fino adesso. Mi voglio sempre sentire me stesso e mai a decisioni di tantissime persone. Anche per parlare anche alle persone, perché prima era solo un parlare a me stesso e buttare fuori quello che sentivo per poterlo vedere, ma sempre per me. Penso che ci sono determinate suoni e determinate melodie che rispecchiano il più possibile il significato della canzone. Ed è anche così che, tra virgolette, inizio a scrivere attraverso una melodia o degli accordi che si avvicinano il più possibile a quello che sento dentro, perché anche semplicemente un accordo maggiore o minore ti fa entrare dentro un mondo completamente diverso. E diciamo, sì, quello. Poi a me piacerebbe, andando avanti, sperimentare molto a livello di produzione e fare cose nuove, diciamo, che rimangono comunque coerenti con la mia persona e con la mia musica, però trovare sound nuovi. Non vedo l'ora di poter vedere, toccare, parlare con le persone che mi hanno visto crescere all'interno del programma. Adesso da domani comincia, assieme all'uscita dell'EP. sono felice. Quest'estate sarà così, più o meno. Ce n'è sempre stata, in realtà, tra le canzoni che scrivo, quelle che faccio, anche questi giorni adesso, ce n'è sempre. Grazie.